Cara Stefania, cara Valentina, caro Stefano e cari tutti amici di Lorenzo, come sempre questo è un giorno difficile credo per tutti voi, innanzitutto per una mamma, per un babbo, per la sorella e tutti noi sappiamo che non ci sono grandi parole per ripensare a quello che è accaduto in quella notte alle cascine per capire come sarebbe stata la vita se quella vicenda non si fosse mai verificata e quando anche proviamo a dire vi capiamo non è vero perché non possiamo capire il dolore della famiglia e anche di tutti voi, degli amici, di chi l'ha conosciuto, di chi gli ha voluto bene, di chi l'ha visto con la maglia numero 10, di chi l'ha visto giocare a pallavolo, noi ci siamo incontrati per caso, per un triste caso, per quello che accadde quella notte nel viale degli Olmi, ci siamo incontrati in condizioni strane, difficili, io ricordo la prima telefonata molto dura con Stefano, anche perché erano passati dei giorni da quell'appuntamento e Stefano mi sottolineò come a suo giudizio il sindaco di una città doveva avere un atteggiamento diverso, lui e i suoi collaboratori rispetto a tragedie come quelle che hanno colpito la famiglia Guarnieri. Ci siamo poi incontrati, abbiamo camminato insieme, su una strada ovviamente fatta di difficoltà, di reciproci momenti di gioia ed entusiasmo, perché può esserci anche la gioia e l'entusiasmo nel tentare di affermare una battaglia di civiltà e nei momenti di scoramento non cambierà mai, quante volte ce lo siamo detti? Quante volte ci siamo detti presentando il lavoro, fisicamente mi fu consegnato da Valentina in Palazzo Vecchio, il lavoro che era stato fatto sugli incidenti stradali nella città di Firenze, anche grazie al lavoro di McKinsey, ma al lavoro di tante donne e uomini, quante volte ci siamo detti sì vabbè sono parole, parole, ma non riusciremo a realizzarle, in particolar modo nella parte che riguarda gli interventi, non tanto sulla città, non solo sulla città, ma gli interventi normativi. E quante volte abbiamo avuto dei momenti in cui ci siamo sfiorati, incrociati, parlati. Io ricordo come se fosse adesso quella serata in cui Lorenzo avrebbe compiuto 18 anni ed eravamo alza sciol, senza di lui o comunque con la forza di una famiglia, la famiglia Guamieri che non si è mai arresa. Oggi le cose sono profondamente cambiate, non sono cambiate per la sua famiglia che continua ad avvertire il peso di un'assenza, ma sono cambiate per le responsabilità che alcuni di noi hanno, alcuni di quelli che lavoravano con Stefania, con Stefano, con Valentina nei primi momenti del progetto, con il team guidato da Gioia Ghezzi, con tutte le persone che si sono succedute, quelle che hanno fatto i banchetti per prendere le firme sull'omicidio stradale e sull'ergastro della patente. Oggi alcuni di questi hanno responsabilità nazionali, siamo qui, siamo a Roma, vi sto parlando da Palazzo Chigi. E noi abbiamo verso di voi, ma vorrei dire verso di noi, una responsabilità, che quel lungo lavoro non diventi soltanto materiale per archivio, materiale per chiacchiere, materiale cartaceo. E allora oggi, oggi che vi ritrovate per ricordare il compleanno di Lorenzo, come tutti gli anni, io prendo con voi un impegno. Adesso non ci sono più alibi. L'omicidio stradale e l'ergastro della patente sono due provvedimenti che il Parlamento finalmente ha iniziato a esaminare. Già Stefano era stato ospitato dalla Commissione Trasporti, se non ricordo male, nel 2012. Ci sono tornati, c'è il Vice Ministro Lencini che si è preso carico di questa vicenda con cura e con attenzione, e lo ringrazio. Tra di voi il sottosegretario Lotti, che era un altro di quelli che aveva responsabilità al Comune di Firenze quando ci siamo incontrati e conosciuti. Bene, ora il Parlamento sta discutendo. Io me le ricordo le domande anche polemiche, con lo sguardo corrucciato, rivolte a tante autorità, dai politici ai giudici, che voi, amici di Lorenzo, faceste in quella serata del diciottesimo di Lorenzo. Ad alcune di queste siamo in condizione di dare una risposta. Il Parlamento dovrà dare una risposta. L'impegno che prendo con voi qui, oggi, da Palazzo Chigi, sede del Governo della Repubblica Italiana, è che il 2015 sarà l'anno in cui noi interverremo, aspetteremo che sia il Parlamento a fare, perché credo che sia giusto che il Parlamento possa intervenire, possa legiferare, visto che è in stato di avanzata discussione su questi temi, se non lo farà il Parlamento provvederemo noi. Quello che è fondamentale è che sia chiaro che sull'omicidio stradale, sull'ergastolo della patente, sul senso di lotta contro l'ingiustizia sulla strada, che porta una persona sotto effetto di stupefacenti a falciare e a uccidere un ragazzo di 17 anni, il tempo dell'impunità è finito. Vi garantisco che il 2015 sarà l'anno in cui le cose avranno finalmente compimento dal punto di vista normativo. Vorrei anche essere chiaro, non finisce lì, ci sono da fare le campagne educative, le campagne della scuola, continuare a combattere perché le strade siano illuminate, perché le strade siano tenute in ordine, perché tutto il lavoro che abbiamo fatto di verifica puntuale su come si interviene in casi di incidenti stradali, dal team psicologico alla gestione dei rilievi da farsi attraverso le polizie municipali, ecco questo lavoro deve continuare e continuerà. Ma, questo è l'impegno che devo prendere io, il 2015 sia l'anno della svolta definitiva. E allora permettetemi di dire a Stefania, soprattutto come mamma, a Valentina, a Stefano, che quello di cui noi vi ringraziamo come cittadini della comunità chiamata Firenze, come cittadini della comunità chiamata Italia e della vostra determinazione, della vostra dedizione. Non servirà per riavere indietro Lorenzo, ma se servirà a far capire che queste cose non sono questioni da addetti ai lavori o soltanto da chi ci è passato, ma sono questioni che riguardano tutti, avremmo vinto una battaglia culturale, avremmo vinto una battaglia educativa, avremmo vinto una battaglia normativa e lo avremmo fatto nel nome, nel ricordo, nel pensiero del sorriso di Lorenzo. Grazie.